Siamo alla sesta edizione, il Comune di Termoli ha sposato un progetto di rigenerazione urbana per cui la camminata quest'anno si declinerà nella piantumazione di 80 nuovi piccoli olivi in una zona di Termoli periferica che una volta era fortemente ulivetata, era un territorio, era una distesa immensa di uliveti e a causa dell'urbanizzazione che Termoli ha subito negli ultimi decenni ovviamente ha perso questo simbolo della vita che noi vogliamo recuperare rigenerando, soprattutto un'area verde diciamo abbandonata, l'abbiamo recuperata e con il coinvolgimento della famiglia, dei bambini che parteciperanno ridaremo un polmone verde alla città di Termoli perché come sapete l'albero dell'olivo è in grado di sequestrare 2 kg di CO2 al giorno, quindi 80 olivi nei prossimi anni daranno nuovo ossigeno alla nostra città e quindi contribuiranno a promuovere benessere per i nostri cittadini. Diventerà un vero e proprio parco? Un vero e proprio parco? Lo chiameremo appunto parco dell'olivo, parco della biodiversità olivicola molisana. Io credo che sia il primo parco urbano in Italia dedicato alle cultivar regionali. Saranno piantati 80 ulivi rappresentativi delle 20 cultivar registrate in Molise e tutto questo anche con il contributo prezioso del Lions Club Tifernus di Termoli che contribuisce con una donazione di 50 alberi insieme al mio contributo perché in qualità di Vicepresidente dell'Associazione Città dell'Olio destinerò i miei gettoni di Vicepresidente appunto a questo dono per la città di Termoli.